Finalmente oggi si è trovata la soluzione all'aspetto legato alla legge sul comparto scistico. Si è trovata grazie a un emendamento, di cui sono stato il promotore, che ha permesso di sbloccare la leale collaborazione che il Governo regionale aveva avuto nei confronti delle osservazioni che erano state fatte dal Governo centrale sul dispositivo normativo. Grazie un'approvazione unanime, si è avuta così la possibilità di sbloccare qualcosa che era rimasto incastrato, come ricorderete la legge 39 del dicembre del 2020 ed era rimasto incastrato negli ultimi mesi. Così si è sganciato dalla legge sulla reale collaborazione ed è stato traslato in un altro provvedimento legislativo e a breve, speriamo, anzi ne siamo certi, troverà la definitiva chiusura e permetterà agli operatori del comparto scistico e dei settori complementari di veder soddisfatte le loro legittime esigenze.